Una folla commossa accompagnato questa mattina in chiesa è il feretro del professore Germano Bonora per l'ultimo saluto, toccanti le parole di Don Bruno Lancuba che ha ricordato la persona e quello che ha fatto per il territorio. Germano Bonora, professore, scrittore, giornalista, ha lasciato alla comunità agropolese lo scorso martedì. Uomo di grande carisma, scrittore attento ed efficace. Ha scritto diversi testi, ha collaborato con diverse testate giornalistiche. Uomo, marito, padre, nonno, un esempio unico, scrive di lui il figlio Nicola. La passione per lo studio, la scrittura, l'insegnamento, l'amore per la vita, l'ottimismo nella tua fede ferrea, l'onestà e la generosità, la forza e la dignità nell'affrontare la malattia. Sei andato via, il dolore è fortissimo, ma cercherò di essere degno di tutto ciò che mi hai lasciato in eredità, non importa dove sei ora, dal mio cuore niente e nessuno ti potrà portare via. Ti terrò stretto a me per sempre, come stanotte. Germano era un uomo di poche parole, scrive invece Pierluigi Iorio, sempre centrate e addolcite dalla pronuncia di una consonante che lasciava scivolare con la delicatezza di chi bada al contenuto più che alla forma. Fu uno dei principali animatori della vita culturale di Agropoli e, in particolare, di quella scolastica del liceo Gatto, promuovendo seminari di elevato interesse culturale su tutti gli incontri con Danino Dolci, sociologo dalle rare doti umane. Lascia sua moglie Pina, i figli Nico, Caterina e Floriana. Realizzammo insieme il documentario su padre Giacomo Selvi, trasmettendomi un forte senso di fede, ha dichiarato Gianni Petrizzo, editore di Cilento Channel. Mi ha insegnato a perseverare e combattere fino in fondo per ottenere giustizia. È stato uno scrittore attento ed efficace. Salutiamo un uomo che ha donato al territorio un grande patrimonio culturale. La redazione di Cilento Channel si stringe accanto alla famiglia per la perdita del caro Germano.